Mares o non Mares? Questo è il problema. E questo, diciamo, il dilemma che ormai è entrato nella testa di tutti i tifosi della Roma che sperano di vedere Mares con la maglia giallorossa. Come ben sappiamo la trattativa è ancora in fase di svolgimento e non passa un giorno che non ci sia una novità. In un giorno la Roma offre 30 milioni ma loro ne vogliono 40. Un altro giorno la Roma ne offre 35 ma ne vogliono 45. Un altro giorno la Roma scende a 28 e loro ne vogliono 35. Insomma c'è sempre un giorno in cui l'offerta della Roma e la richiesta dell'Ester cambiano o si alzano o si abbassano. C'è, diciamo, un po' troppa incoerenza in giro. Allora, voglio dire innanzitutto che ci può stare che questa trattativa non sia delle più corte e delle più facili. Prima di tutto perché l'Ester non ha bisogno effettivo di vendere il suo giocatore e quindi sta facendo il prezzo che vuole. Cosa che tra l'altro per me è assolutamente giusta soprattutto perché noi stessi l'abbiamo fatto nel nostro mercato attuale. Abbiamo venduto alcuni giocatori forti però l'abbiamo fatto alle nostre cifre e alle squadre che volevamo noi e quindi per questo motivo ci può stare che l'Ester non abbia accettato subito l'offerta della Roma e stia cercando magari di guadagnarci quanti più soldi possibile. Quindi eviterei di insultare la società, l'allenatore, chi vi pare, dell'Ester perché stanno facendo esattamente quello che una società seria dovrebbe fare e cioè farsi rispettare quando una squadra avversaria chiede i propri giocatori migliori. Allora come ben sapete Ismares per me sarebbe un sogno clamoroso e attualmente sarebbe l'unico secondo me degno sostituto di Mohamed Salah che già nelle prime amiche sta facendo sfaceli con la maglia del Liverpool. Tutte altre alternative che si sono fatte in questo momento sono per me decisamente inferiori. Anche lo stesso Suso che tra l'altro sembra che rinnoverà col Milan è molto inferiori secondo me rispetto a Marez. Io non voglio lamentarmi troppo con la dirigenza perché comunque è normale che con questa società devi sapere bene quali offerte fare e quali azioni fare in parole povere. Però secondo me se fossi al posto di Monci, lo dico ovviamente da tifoso non è che voglio prendere il posto suo, cercherei comunque di accontentare il Leicester. Se veramente le cifre che abbalano sono di 4-5 milioni io glieli darei e buonanotte perché prima di tutto non ci sono giocatori sulla piazza migliori di lui in questo momento. Seconda cosa devi fare comunque un buon investimento su quel reparto perché è l'unico reparto secondo me veramente scoperto in questo momento perché c'è solo Cengizunda che però è ancora troppo giovane e non mi sento di dargli la fascia solo ed esclusivamente a lui. Di conseguenza per me la Roma dovrebbe fare questo sforzo economico per cercare di portarlo a casa. Un fattore che può aver, diciamo, migliorato questa trattativa è l'arrivo di Ienaccio alla corte del Leicester. Leicester che lo ha preso dal Manchester City e diciamo che le caratteristiche di questo giocatore vanno proprio a pennello con quelle di Mares perché è un esterno destro di piede mancino, può giocare anche al centro eccetera eccetera, però comunque si può mettere nello stesso ruolo di Mares. Quindi tutto lascia pensare che potrebbe essere un suo sostituto. Oggi però è uscita una dichiarazione che ha fatto preoccupare molto i tifosi della Roma e cioè l'allenatore Shakespeare, per questo fatto del dilemma iniziale, ha detto che Mares vuole andare in una big della Premier League, se no rimarrà a Leicester. E questa frase per tutti è sembrata come una ecatomba, come per dire ecco è finita, buonanotte, ci tocca prendere il pippone, Mares va via, oddio che tristezza, che peccato. È una cosa che ci può stare benissimo, non dico che siano dichiarazioni false, però secondo me sono dichiarazioni fatte per lo più per alzare l'asta per il giocatore. Soprattutto perché pochi minuti fa, diciamo un'oretta fa, ho avuto la conferma e abbiamo avuto la conferma che nessuna squadra dei Premier League si è interessata fortemente al giocatore. Quindi per me queste dichiarazioni sono più per aumentare il prezzo del giocatore e magari invitare la Roma a chiudere in fretta la trattativa, piuttosto che reali, secondo il mio punto di vista. Poi magari andrà in un'altra squadra dell'Inghilterra e dovrà modificare di addio. Però io cerco di vederla a tutto questo punto di vista. Quindi io ovviamente spero con tutto il cuore che il giocatore alla fine arrivi alla corte di di Francesco perché ci permetterebbe di completare il reparto offensivo e di migliorarlo nettamente rispetto alla scorsa stagione. Adesso mi sono ricordato che se il giocatore arriverà alla Roma dovrà fare il giro di Roma in bicicletta con SIC e tutti gli altri. Però lo dico con tutto il bene del mondo, se questo dovesse succedere, prendere la bicicletta lo farei direttamente da Gubbio a Roma. Vedremo un po' come se volverà questa trattativa, molto lunga e che sinceramente ha un pochino stancato, anche se era prevedibile considerando il valore del giocatore e il fatto soprattutto che l'Ester non ha bisogno di vendere assolutamente. Spero con tutto il cuore che molto presto riusciremo a vedere Marez con addosso la maglia giallorossa. Fatemi sapere nei commenti voi che se ne pensate di questa trattativa ormai lunghissima e che non finisce più tra Marez, la Roma e l'Ester. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre Forza Roma. Ciao ragazzi!